ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro are benvenuti in questo nuovo video ed eccoci qua con il nuovo batman per la linea dc multiverse prodotta da mcfarland toys direttamente dall'arco narrativo the tree jokers eccolo qui nella confezione ragazzi questa qui è la versione base normale ma vedremo in questo video una versione leggermente modificata da me che secondo me a mio parere da più risalto a questa figura adesso capiremo meglio comunque la confezione è questa qui la solita ve la faccio vedere comunque nel dettaglio eccola qui fatemi sapere sempre un parere su questa nuova postazione ragazzi perché sono molto curioso di sapere cosa ne pensate a me piace veramente tanto perché secondo me mette in risalto tantissimo la figure con questa luce comunque direi di non perdere tempo sulla confezione se voleste acquistare questa figure in questa versione o nella versione modificata da me che vedremo tra poco potete farlo tramite il mio sito ara shop che si trova nel link qui sotto in descrizione ma andiamola a vedere fuori dalla confezione ed eccoci qua ragazzi con le due versioni quella classica normale come viene fuori dalla confezione quella modificata da me ebbene sì ho cambiato semplicemente il colore del mutandino comunque vi faccio vedere subito gli accessori di cui è dotata questa figura abbiamo semplicemente il rampino eccolo qui non ha painting tutto nero col cordino e il rampino appunto finale lo spara rampino per la precisione e poi abbiamo la solita carta con la foto della nostra figure e la basetta nera niente di interessante in realtà quello che è interessante secondo me è come cambia la figure semplicemente con una ripitturazione della mutanda ragazzi secondo me cambia da così a così almeno parere personale io la preferisco mille volte col mutandino nero perché secondo me batman deve avere il mutandino nero anche se può essere strano magari a quelli che si approcciano per la prima volta a batman ma è così cioè è proprio una cosa che spezza con il grigio della tuta secondo me e dà qualcosa in più alla tuta di batman quindi questa qui è la versione normale l'abbiamo vista mutandino grigio secondo me lascia un attimo il tempo che trova quindi ho preferito modificarla e attenzione ragazzi per chi acquisterà questa figure da me se volesse questa modifica naturalmente la può acquistare anche senza la modifica ma se volete questa modifica la potete avere gratuitamente basta che mi lasciate un messaggio sul sito o mi contattate direttamente su instagram o facebook o quello che volete e mi dite ho acquistato il batman voglio acquistare il batman mcfarland toys dei tre joker con mutanda nera io vi faccio la modifica gratuitamente assolutamente gratuitamente questa qui chiaramente la copia che io avrò nella mia collezione perché ragazzi in questo modo secondo me questa è una rappresentazione perfetta del batman più classico in realtà logo giallo e nero sul petto cintura gialla mutandina nera corna abbastanza corte tra l'altro questo batman ricorda molto il viso del batman di frank miller mi ricorda molto quello da the dark knight veramente figo tra l'altro dettagli fighissimi anche qui gli spuntoni molto lunghi io mi piacciono molto questi spuntoni lunghi in questo modo qui dettagli vedete anche sui guanti di questa armatura però non è troppo complesso appunto è un batman molto classico con la solita tutina grigia con qualche armatura in più diciamo qui e là sugli stivali che ci può stare sui guanti però nel complesso ripeto molto classico e secondo me la mutandina nera aiuta il tutto da notare anche il dettaglio vedete della pelle dell'effetto pelle che hanno voluto dare al cappuccio molto figo anche la pittura sulle labbra fatta molto bene le sfumature che ha sul viso veramente ben fatte il mantello ragazzi fatto veramente bene con tutte le pieghe del caso in plastica anche abbastanza morbida anzi molto molto morbida questa qui che vedete naturalmente la scelta di pitturazione che ho adottato sulla mutandina ovvero questo nero opaco assolutamente la scelta migliore a mio parere perché appunto si rifà anche al nero opaco utilizzato per i guanti e gli stivali eccoli qua fatti molto bene anche questi con anche qui l'effetto pelle veramente ben realizzato ragazzi anche le suole fatte molto bene tutte scolpite direi di andare a vedere le articolazioni di questo batman ragazzi abbiamo la testa che può guardare in questo modo qui verso l'alto c'è articolazione al collo non propriamente alla testa che comunque funziona ugualmente un raggio devo dire degno piegamento in basso anche abbastanza buono piegamento laterale in questo modo qui e rotazione laterale in questo modo qui devo dire che la scelta di dare l'articolazione al collo al posto che la testa non mi dispiace affatto anche perché non spezza diciamo lo scalp poi abbiamo chiaramente il piegamento del braccio a 90 gradi rotazione a 360 gradi una butterfly joint rotazione al bicipite articolazione doppia qui al gomito rotazione al poso piegamento al polso articolazione al mezzo busto come sempre abbastanza fissa abbastanza inutile questa dovrebbero migliorarla questa è l'unica pecca diciamo di questa figura a mio parere rotazione anche qui rotazione alla vita piegamento anche alla vita perché è su sfera piegamento della gamba in avanti chiaramente vedete il painting non si rovina assolutamente sulla mutanda nonostante sia in plastica morbida piegamento anche all'indietro apertura laterale praticamente massima rotazione alla parte superiore articolazione doppia qui al ginocchio piegamento del piede in su un po limitato in realtà piegamento del piede in giù rotazione in questo modo qui rotazione laterale della caviglia e piegamento alla punta del piede oh ed eccoli qui entrambi sulla basetta rotante questa è la versione base di mcfarland toys e sta arrivando la versione col mutandino nero si può dire esclusiva alla shop diciamo me la tiro un po dicendo così comunque ragazzi questo è un buon batman in fin dei conti chiaramente mutanda nero mutanda grigia sta a un parere soggettivo diciamo quindi fatemi sapere quale delle due versioni preferite di più perché sono veramente curioso io vi ho detto il mio parere assolutamente la figure è ottima devo dire ha degli accessori sufficienti anziché un po meno in realtà potevano mettere qualcosina in più diamo un 6 politico per quanto riguarda le attivazioni sono veramente buone devono migliorare il maledetto busto perché se migliorano quello ragazzi siamo al top qui con una figure così poco costosa comunque delle attivazioni veramente ottime anche il piegamento alla punta del piede è veramente incredibile cosa che dovrebbero mettere anche sulle marvel legends per quanto riguarda l'estetica ragazzi hanno fatto veramente un gran lavoro forse qualche piccola sfumatura qua e là sul grigio ci poteva stare però anche così ragazzi rende veramente bene la figure mi ha colpito molto l'effetto pelle sul cappuccio mantello guanti e stivali veramente figo comunque fatemi sapere il vostro parere con un commento qui sotto il voto finale per questa figure secondo me è un otto pieno veramente un buon batman da parte di mcfarland toys e col mutandino nero ripeto secondo me risalta ancora di più la condivisione del video è sempre graditissima io vi ringrazio come sempre per la visione trovate la figure disponibile sul mio sito ara shop se ce ne sono ancora copie ci sono copie veramente limitatissime in realtà e niente ragazzi grazie a tutti per la visione ciao da ara colizionate sempre